bene dopo aver visto il concetto di vettore e il concetto di forza oggi facciamo un piccolo passato in avanti e torniamo in realtà a discutere della situazione in cui ci sono diverse diverse forze applicate un oggetto abbiamo già visto ripeto il fatto che la forza è un vettore quindi è caratterizzata da intensità direzione e verso e le forze possono essere abbiamo visto di diverso tipo visto la forza peso la forza elastica e la forza di attrito in particolare l'attrito da dente ok immaginiamo di avere più forze applicate allo stesso oggetto ok in quel caso per esempio abbiamo visto per esempio se l'esempio che mi viene quello della molla se ho il corpo appeso una molla il pesetto appeso ad una molla qui avevo già fatto uno screenshot della della simulazione dell'effetto che avevamo visto per la volta scorsa abbiamo la molla verticale questo vettore in blu rappresenta la forza elastica per quella quel quale la molla tende a tornare alla lunghezza di riposo che è questa questo segnato dalla rivela tratteggiata in in blu e poi abbiamo in rosso questo vettore che rappresenta la forza peso chiamiamola compi ok quindi ho all'oggetto appeso la molla sono applicate due forze perché sono applicate nello stesso questo punto lino qui rappresenta farlo disegnare in che ne sono in verde rappresenta il corpo appeso qui l'esito l'effetto delle forze ok non non dipende tanto da come è fatto il nostro oggetto che lo rappresentiamo come un punto quello che chiamiamo questo indicato come un punto materiale e quindi se ho più forze fatemi riscrivere qua sotto applicate lo stesso punto quindi l'armo indicato con la forza elastica diretta verso l'alto e la forza peso diretta verso il basso l'oggetto a cui queste forze sono applicate viene rappresentato come un puntolino che viene chiamato punto materiale punto perché perché è talmente piccolo che non mi interessa come è fatto cioè non non ha importanza la sua forma la sua struttura interna ok come un punto un punto è tutto ciò che non ha parti come vedremo in geometria quindi in questo caso lo chiamo punto perché posso ignorare ignoro la sua struttura interna detto in altre parole non mi interessa come è fatto e materiale perché lo immagino una delle poche forze grandezze fisiche che lo caratterizza è che è dotato di una massa cioè fatto di qualcosa ok in particolare per esempio il fatto che è un punto implica che a volume nullo quindi può solo traslare non ruota perché non ha senso dire con punto ruota visto che è privo di struttura interna ok in quali casi questo mi interessa parlo di punto materiale tutte le volte che ne so parlo di un sistema per cui le caratteristiche interna del sistema sono irrilevanti faccio un altro esempio immaginate di avere una una mappa una carta geografica per esempio della regione qui abbiamo la linea della costa qui magari c'è che ne so qui c'è trieste qui c'è venezia immaginate di rappresentare l'autostrada che va da trieste a venezia fatemela disegnare in verde se dovete dare la posizione di un'auto lungo l'autostrada indichiamola in blu non vi interessa come è fatta l'auto ok la rappresentiamo quindi come un punto questo è un veicolo in moto tra una città e l'altra la sua posizione non dipende del fatto che l'auto sia grande piccola di un colore di un altro che ci siano più su più persone o meno persone quindi la rappresento come un punto ok per cui nella mappa è qualcosa di talmente piccolo che possa presentarlo come un puntolino lungo l'autostrada e via dicendo quindi avrà delle coordinate e tutto e tutto il resto ok quando posso fare questo cioè quando ciò che mi interessa del mio sistema del mio oggetto non dipende dal come è fatto ma solamente da la sua posizione o insomma il suo posso rappresentarlo come un punto allora parlo di punto materiale d'accordo? non è sempre così questi sono i casi più semplici se invece mi interessa per esempio studiare la collisione tra due automobili quando per esempio la polizia deve fare un rilevamento tra dell'urto tra due veicoli allora è chiaro che la struttura del veicolo è importante perché? perché i danni che riporta il veicolo per esempio sono legati alla velocità con cui è venuta la collisione quanto forte andava e se l'auto è leggera oppure molto massiccia cioè se per esempio si scontra un'utilitaria con un TIR è chiaro che i danni maggiori la riporta l'auto che è meno robusta quindi lì la struttura interna ciò di cui è fatta e come è fatta è importante in quel caso lì non posso più utilizzare il concetto di punto materiale perché quello che c'è all'interno del sistema è fondamentale ma tutto ciò che posso dire senza andare a indagare la struttura interna del sistema posso dirlo considerando il nostro oggetto come un punto materiale posto che possa fare questo torniamo all'esempio di prima allora se al mio punto sono applicate più forze la somma vettoriale delle forze applicate viene chiamata forza risultante o forza totale se preferite il termine più usato è risultante quindi se ho più forze applicate allo stesso oggetto la forza risultante è un vettore che è data dalla somma delle forze applicate nel caso della mola sarà la forza elastica più la forza peso eccetera eccetera se sono diverse in generale parlo di forze risultante se ho molte forze applicate al corpo e le sommo vettorialmente F1 per esempio più F2 più F3 se ho tre forze più eccetera eccetera abbiamo già imparato come si fa a fare la somma di diversi vettori che il vettore ottenuto sommando tutte le forze che agiscono sull'oggetto se ce ne sono tante e in generale sono tante si chiama forza risultante ok? perché è importante la forza risultante? l'importante è la forza risultante per quanto sto per dirvi per il concetto di equilibrio dico che un oggetto è in equilibrio in particolare un punto materiale è in equilibrio l'equilibrio del punto materiale diciamo più specifici cioè di un oggetto, di un corpo di cui non mi importa della struttura interna quindi posso rappresentarlo come un puntolino dotato però di massa ma senza volume è la situazione nel quale la risultante delle forze applicate è zero in questo caso parlo di oggetto o di corpo in equilibrio che cosa comporta questo? prego c'è una domanda la forza risultante è uguale al punto materiale? prego la forza risultante è uguale al punto materiale? no, sono due cose molto distinte un conto è il corpo un conto sono le forze applicate al corpo il punto materiale continua a essere un punto materiale anche se la risultante delle forze non è zero in quel caso però non posso più dire che è in equilibrio ok? l'idea di punto materiale è una semplificazione di come posso rappresentare l'oggetto torniamo alla figura di prima qui abbiamo il nostro pesetto applicato alla molla è ovvio che questo non è un punto materiale nel senso è formale del termine perché ha un suo volume ha una sua forma, eccetera però per quanto riguarda l'equilibrio delle forze applicate a questo oggetto posso considerarla come un punto e in quel caso tutte le forze applicate al nostro pesetto sono applicate al punto che lo rappresenta è una semplificazione cioè per quanto riguarda il suo equilibrio posso ignorare la sua forma me lo rappresento semplificandolo come un solo punto in cui è concentrata tutta la sua massa e siccome tutta la sua massa è concentrata in un punto non mi importa di com'è fatto perché un punto non ha forma non ha struttura interna non ha volume se a questo punto sono applicate diverse forze e sommo le forze applicate trovo un vettore che chiamo forza risultante che può essere o può non essere zero a seconda della situazione nel caso in cui il corpo abbia somme applicate la cui risultante è zero dico che quell'oggetto, quel corpo è in equilibrio come faccio ad accorgermi che il corpo è in equilibrio? il corpo è in equilibrio cioè una delle dirette conseguenze di questo status di questa situazione è il fatto che mantiene o permane lo stato di moto nel quale si trova faccio un esempio se appendiamo il nostro pesetto alla molla e aspettiamo che la molla si allunghi di un certo tratto e poi il pesetto sta lì e sta fermo come abbiamo visto anche l'altra volta quando abbiamo costruito la molla allora sì, ho due forze applicate all'oggetto però l'oggetto è inquieto, è in equilibrio perché non si muove la molla si è allungata ha raggiunto una nuova posizione di equilibrio e in questa posizione le due forze applicate all'oggetto sono l'una all'opposto dell'altra quindi il loro totale è zero e quindi l'oggetto ha una forza risultante applicata nulla perché l'effetto del peso è bilanciato dall'effetto della forza elastica e quindi se l'oggetto si trova in questa posizione fermo, rimane fermo cioè resta nello stato di moto nel quale si trova qui in realtà in una successione più funzionale forse degli argomenti prima è opportuno trattare il concetto di moto ma siccome questo richiede il concetto di equazione che in matematica non abbiamo ancora visto allora si preferisce parlare prima delle forze anche se in realtà l'effetto della forza fa riferimento allo stato di moto e lo stato di moto sarà trattato un pochettino più avanti comunque è facilmente intuibile, mi auguro se vedo un oggetto fermo se per esempio prendo la penna e l'appoggio sul tavolo la penna, se il tavolo non è inclinato, rimane dov'è non si sposta da sola, a meno che io non la sposti in questo caso dico che l'oggetto è in equilibrio perché rimane dove l'ho messa l'ho messa lì, ferma, rimane ferma quindi se alla penna sono applicate più forze ne deduco che il risultato delle forze applicate è zero parlo di equilibrio del punto materiale d'accordo? ok? sfrutto l'esempio della penna sul tavolo per introdurre un'altra forza che non avevamo visto fino ad adesso mi pare questo è il nostro tavolo qui il pavimento immaginate di mettere la penna qua sopra lo rappresento come un punto poi un po' grosso perché lo possiate vedere bene su questo oggetto quali forze agiscono? beh c'è sicuramente la forza peso tutti gli oggetti sulla superficie della terra sono caratterizzati da un peso se hanno massa ok? ma il peso non può essere l'unica forza perché? perché sennò l'oggetto cadrebbe se fosse l'unica forza non si potrebbe verificare questa condizione ok? se qui avessi se la forza risultante fosse solo il peso questo non potrebbe essere zero perché il peso non è nullo ok? ma siccome l'oggetto sta fermo posso dire che il risultante delle forze applicate è zero quindi ne deduco che il peso non è l'unica forza ce n'è un'altra quale potrebbe essere? cosa dovrebbe succedere affinché la mia matita appoggiata sul tavolo cioè la mia matita cade verso terra non dovrebbe avere il tavolo sotto è la presenza del tavolo che impedisce alla matita di cadere quindi il tavolo cosa fa? introduce un'altra forza che chiamiamo reazione vincolare o forza vincolare ancora meglio chiamiamola R quindi al peso devo aggiungere questa forza dovuta alla presenza del tavolo che fa sì che il totale sia nullo questo la chiamiamo forza vincolare la parola vincolo viene dal latino vincoli significa catene il tavolo quindi in questo caso si comporta come un vincolo cioè produce un'azione vincolare le catene cosa fanno? ti imprigionano cioè limitano la tua libertà di movimento quello stesso fa il vincolo per vincolo si intende qualsiasi dispositivo che limiti le possibilità di movimento il tavolo cosa fa? impedisce alla matita di attraversare il tavolo stesso lascia la matita libera di spostarsi lungo il tavolo stesso ma impedisce il moto attraverso il tavolo quindi ogni vincolo è qualsiasi dispositivo che ripeto limita le possibilità di movimento il tavolo è un vincolo se appoggio qualcosa sul tavolo sono sicuro a meno che non appoggi qualcosa di molto pesante che il tavolo impedisce all'oggetto di attraversarlo prego ma anche il pavimento un vincolo? certo assolutamente sì il pavimento analogamente è un vincolo la strada è un vincolo nessun oggetto che si muova per strada o che cammini o che sia un'automobile o un tir non attraversa la strada cioè non va non sprofonda la strada a meno che che ne so la strada sia su un ponte il ponte sia cedevole cosa che non ci auguriamo mai può spostarsi lungo la strada quindi nella direzione parallela alla strada ma non perpendicolarmente alla strada quindi la strada e il piano nel nostro tavolo sono vincoli è un vincolo per esempio che ne so qui non ne abbiamo sì la carta geografica che vedete ha presa il muro è soggetta a un vincolo se io appendo immaginate che questo sia il nostro muro qui c'è un chiodo appendo la carta geografica al muro con un gancetto con una corticella questo il chiodo impedisce alla mappa al quadro o alla carta geografica di cadere quindi la carta geografica agisce sul chiodo che diventa il nostro punto materiale agendo con il suo peso e il chiodo reagisce o applica se preferite una forza vincolare che bilancia il peso in modo tale che la somma totale sia zero la somma delle due forze dà una risultante nulla che è quello che vogliamo perché non vogliamo che il corpo che la mappa cada vogliamo che rimanga appeso al muro ok tutto ciò che limita le possibilità di movimento prende il nome di vincolo d'accordo nel caso ad esempio di un piano la reazione vincolare o l'effetto del vincolo è una forza perpendicolare al piano stesso ok abbiamo visto quindi l'esempio del corpo peso la molla lì non parlo di vincolo perché lì la molla lascia libero l'oggetto di muoversi però ci sono le posizioni di equilibrio in cui la forza elastica e la forza peso applicata all'oggetto sono in equilibrio cioè si bilancia l'una con l'altra l'oggetto appeso sul piano sul piano del tavolo è anche in equilibrio perché perché la sua risultante della forza adesso applicata è zero in quanto il peso viene bilanciato dalla forza esercitata dalla presenza del tavolo qui a differenza delle altre forze la forza vincolare o la reazione vincolare se preferite non ha un'intensità prestabilita perché per esempio se appoggio una matita la reazione vincolare bilancia il peso della matita se ci appoggio che ne so un libro la reazione vincolare sarà di intensità diversa perché bilancerà il peso del libro ok qualunque oggetto io appoggi sul tavolo produce lo stesso effetto beh un po' dipende un po' dipende da come è fatto il mio tavolo se il mio tavolo per esempio è di legno massiccio posso appoggiarci qualcosa di molto pesante e il tavolo si comporta comunque bilanciando il peso se invece è un tavolo che ne so non molto robusto e ci metto sopra qualcosa di molto pesante il tavolo può venire rotto può cedere si dice che in quel caso il vincolo viene rotto ok se ci metto qualcosa di molto massiccio fatemelo disegnare qua sotto se ci metto qualcosa di particolarmente pesante molto grosso il peso di questo oggetto può essere tale che il tavolo non è in grado di bilanciare il peso e quindi il tavolo si rompe sotto l'azione del nostro oggetto così come se per esempio appendo al muro un quadro molto pesante e il chiodino che ci metto è molto piccolo rischio che il peso del quadro rompa il chiodo o lo trascini verso terra e quindi il quadro cade ok è la in questo caso la possibilità del tavolo di limitare il movimento viene rotta dal fatto che la forza che è in grado di esercitare il tavolo non è adeguata al peso che il tavolo dovrebbe bilanciare ok ma in tutti i casi in cui il vincolo funziona questo fa sì che si realizzi la situazione di equilibrio in cui la forza applicata al corpo è tipicamente il suo peso viene bilanciata da una perpendicolare alla superficie mentre ripeto il nostro tavolo lascia libero il corpo di spostarsi lungo il piano del tavolo stesso come se per il comando lo posso spostare liberamente lungo la posizione del tavolo ok d'accordo quindi due concetti mi preme che vi rimangano in testa oggi il concetto di punto materiale che è una semplificazione tutte le volte che ho a che fare con corpi anche complessi ma dei quali non mi interessa la struttura interna allora lì approssimo li descrivo come un oggetto puntiforme dotato di massa ma senza struttura interna se a questo oggetto sono applicate più forze la somma vettoriale di tutte le forze si chiama forza risultante e si realizza l'equilibrio quando questa forza risultante vale zero quando tutte le forze concorrentiche applicate all'oggetto danno totale nullo in quel caso lo stato del corpo è in equilibrio che significa dal punto di vista applicativo pratico significa che l'oggetto mantiene lo stato del moto nel quale si trova quindi se è fermo rimane fermo quello che succede quando le forze non sono in equilibrio va sotto il nome di dinamica quello che invece le condizioni affinché si realizzi l'equilibrio prendono il nome di statica la statica per esempio di un edificio è una 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 situazione molto importante perché deve essere un edificio deve essere in grado di resistere a determinate sollecitazioni oppure la statica di una nave in mare mi fanno accendere questa per finire dall'ora quindi oggi mi fermo ci sono domande perfetto